bella wolfini e bentornati al longwolf 92 channel oggi siamo con Cigari ma tu sei un wolfino se ti seguo bravo attenzione ma l'ho detto di dire allora oggi abbiamo qualche domanda anche per lui riguardante l'eSports ma la prima è da quanto giochi a fifa due anni prima ero un pesaro pesaro fino al 13 14 9 prima non giocavo sarà stati tre o quattro anni che non giocavo più dopo mi hanno fatto scoprire fifa 16 sono data fifa 16 ok ma allora anche con peste mischiato qual è l'edizione che eri più forte come valutazione te la ricordi la sai questa questa qui valutazione totale sono in full sono a tutta forza ma tu giochi a fifa ma la mia delle queste edizioni no no non lo so secondo me quando era l'atalanta ma non lo so vengo a fare il tipo la cina stiamo registrando non puoi da lui giochi a fifa team si si sono fortissimo quanto fai su 40 vabbè che vuol dire non ci gioco non ci gioco mai mentre murian diciamo che mi salvo ti salvi rimani rimango stabile ok ho superato i 20 però vabbè già lì giochi a 18 sei già qualificato allora adesso noi andremo a fare un 2 contro 2 e lui invece è lui quanto fa muriel muriel fuori camera però allora vi sveno un retroscena muriel fa 20 partite ne vince due ok due però io poi dopo paga chic perché è più forte che gioca e si qualifica e va avanti così da due mesi la sinistra storia che pagare i pacchetti foot paga non so uno stipendio in fifa e utato invece di comprare la carta reale dei giocatori comprare la carta la carta if di chic ah ok è perfetto però quella reale mi segnerò il numero di muriel così probabilmente mancherà a me per giocare al full champion allora quindi adesso giocheremo sul canale della sapdoria che insomma troverete qui in descrizione e pure sotto insomma il link che vi rimanda al loro canale e niente ragazzi ci vediamo in partita